Stellantis resta in Italia e chi dice il contrario diffonde fake news. L'amministratore delegato Carlos Tavares è nettissimo nella sua pronuncia durante la visita agli stabilimenti torinesi dove è appena stato inaugurato un nuovo reparto che assemblerà oltre 600.000 cambi ibridi. La lunga giornata di Mirafiori inizia dall'incontro tra il top manager portoghese e i sindacati metalmeccanici che il 12 aprile hanno proclamato uno sciopero contro i continui tagli imposti dall'azienda. All'uscita dai cancelli di via Plava 80 Edi Lazzi, segretario di FIOM CGL Torino, constata che il dialogo, definito da Tavares costruttivo, non ha apportato alcuna novità. L'elemento di positività è che è stato detto dal mio punto di vista per la prima volta con chiarezza che cosa i lavoratori pensano e che cosa i lavoratori stanno chiedendo all'amministratore delegato e a Stellantis, mettendo in evidenza il fatto che il problema di Mirafiori è il problema della città di Torino, perché la città di Torino è andata in crisi dovuta al calo delle produzioni che ci sono state a Mirafiori. Quindi insomma è stata un'occasione per dire esattamente che cosa servirebbe e noi abbiamo anche aperto un'altra strada che è quella di fare una trattativa. Noi abbiamo detto chiaramente che fare queste comunicazioni ha una sua importanza, però rischia di essere semplicemente uno scambio di idee, mentre invece c'è bisogno di aprire un confronto che prevede una trattativa per cercare di capire che cosa fare a raggiungere il giusto equilibrio tra ciò che sono le preoccupazioni e le esigenze delle aziende, ma ovviamente ciò che sono le preoccupazioni e le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori.